Rocco ha deciso di farla finita facciamo scherzi che qua è pericoloso che entrata di merda e sto cagandome ma non prego prego la panza dei rocchi prima eravamo in 4 sulle scogliere di moe adesso siamo in 3 perchè uno è deceduto il cane non ci passa perchè veramente boh aspeccamo la passaccia no 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 vedi allora guarda no 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 mamma mia mamma mia io che sto punto peggiole io che sto punto peggiole no 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 vai vedi sveglate non mi fanno bene ma io non mi fanno mai non mi fanno mai fino al Donnega si, 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 al Donnega non mi fanno mai andò andò